Musica Ciao a tutti ragazzi siamo Rebi e Molly E bentornati in un nuovo fantastico video Ragazzi come potete vedere qui è ancora Natale E' ancora il nostro albero di Natale qua ragazzi Non lo toglieremo più, no scherzo lo toglieremo prima di poi Ma noi siamo molto natalisti e quindi beh durerà per un altro po' Dai ammettetelo l'albero di Natale è troppo bello Io non voglio toglierlo, ci ho messo così tanto a farlo Ehi Io lo vorrei togliere solo per prendere questo fantastico piocchettino Guardate ragazzi mi sta bene, potrei mettere i miei capelli Comunque come state speriamo tutto benissimo Mi raccomando se non l'avete fatto lasciate subito un bel mi piace a questo video E a tutti i non iscritti, che aspettate? Iscrivetevi Rebi ma che ci fai con quella maschera? Hai visto chi sono diventata? Prova un po' a indovinare chi sono? No aspetta non ci credo ma ho capito chi sei, è Drago Nero Sì ragazzi perché oggi sarà un video fantastico Oltre a ricordarvi tutte le nostre bellissime avventure dell'esperienza di Lucca Che è stata fantastica, adesso vi faremo vedere tutte le maschere che abbiamo incontrato là Vi dobbiamo dire anche una cosa stupenda Finalmente è in onda la nuova serie di Drago Nero E voi l'avete già vista? Ah ah ah, proprio così Rebi, mi riconosci a me invece? Non ci credo ma ti sei travestito da un altro personaggio, incredibile Sono veramente felice perché la serie di Drago Nero è finalmente uscita in tv La potete trovare su Rai Gulp e Rai Play Allora Rebi vediamo se sei una vera fan di Drago Nero Guarda che cosa c'è qua, tutte le maschere Wow certo che ve le ricordo E sì che sono una vera fan, le ho collezionate tutte le maschere Allora vediamo se ti ricordi come si chiamano Lui? Lui è Ian Ottimo, lei? Mirva, ovvio, la mia preferita E lui? Lui è Comor Ti assomiglia un po' Ma come? È verde come te, guarda ti assomiglia Io invece sono lei, la fantastica Mirva E Rina del... no non possiamo dire niente Ragazzi non vogliamo spoilerarvi niente Ma se volete vedere la nuova serie la trovate in tv Comunque ragazzi adesso vi facciamo vedere tutte le nostre fantastiche avventure che sono successe a Lucca Guardate Oggi ragazzi guardate un po' dove siamo All'anteprima di Drago Nero Sì siamo felicissimi perché siamo venuti qua a Lucca E abbiamo visto i primi episodi della serie tv di Drago Nero Ragazzi sono bellissimi Ecco ragazzi guardate Li stanno facendo ancora vedere Sono bellissimi Noi li abbiamo già visti Però non possiamo spoilerare tanto Guardate lì c'è il teatro Guardate ragazzi c'è anche il magazine fumetto È bellissimo E guardate ragazzi ci siamo anche noi Reby e Molly Allora Comunque visto che siamo a Lucca Dopo andremo in giro a cercare un sacco di costumi bellissimi e divertenti Ci stai Reby? È vero io ho visto un sacco di maschere Alcune sono anche spaventose ragazzi Ok ragazzi io direi di iniziare Adesso andiamo in giro a cercare il costume più divertente Mi raccomando voi scriveteci qua sotto nei commentini Quale sarà il vostro costume preferito perché siamo curiosi E soprattutto non dimenticatevi di lasciare un bel like a questo video E iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti Ragazzi guardate i nostri fan dove sono? Lassù in alto Eccoli sono tutti là sopra Ragazzi siamo qua in mezzo c'è un sacco di gente perché oggi siamo a Lucca Comics E infatti ci sono un sacco di maschere attorno a noi Sono fantastici ci sono un sacco di personaggini divertenti Molly non vede l'ora di scoprirli tutti ma io ho visto che là ci sono anche gli stand e le caramelle Quindi Molly cosa ne dici andiamo? Andiamo Reby forza Ok Reby abbiamo appena visto l'anteprima di Dragoneri Nuovi episodi ragazzi sono fantastici Adesso andiamo in giro per Luca nei negozi Siete pronti? Guardate tutta la gente che c'è Ce n'è un sacco Reby hai visto? Si non vedo l'ora L'havo visto passare anche dei palloncini Andiamo a guardarli Andiamo forza Ok ragazzi abbiamo un piccolissimo problema Reby che cosa hai combinato? No lascia per favore No no ti darò tutto quello che vuoi Ascolta Io mi ero avvicinata pensavo fosse simpatico Invece aiuto aiuto Guarda se vuoi te la regalo volentieri No guarda ma Molly cosa stai dicendo? Per favore non farle del male Aspetta forse l'ho convinto Reby Eh ciao Ok? Eh dai raga si scherza però che cavolo Ah ma c'è rimasto male? Era uno scherzo Molly Ragazzi adesso abbiamo veramente la prova che gli alieni esistono E stanno rapendo le persone Aiuto fermatelo No no lascialo lascialo no Molly ma se l'hai portato via Eh mi dispiace per lui Guarda Reby ma cosa stai facendo lì seduta? Eh guarda la televisione La televisione Ah salve Ma non c'è un altro canale qui? C'è solo questo? Oh oh mio Sei innamorato di me la televisione Fantastico Ti voglio bene anch'io Però cambiamo canale Molly guarda c'è una principessa Scusa principessa Ciao bella Eh non è proprio una principessa Ok ragazzi finalmente abbiamo trovato chi giocherà a carte con noi avete visto possiamo giocare a carte? Dai dai certo Ok e quale devo prendere non si capisce molto bene ragazzi Mi piace questo costume? Secondo me stanno parando io prendo questa qui Ma ci sono anche qui le carte? Ma cosa sta succedendo? Ma ci sono le carte da perduto? Ok questo è un gioco un po' complicato Fateci sapere qua sotto nei commentini qual è il costume che vi sta piacendo più di tutti Mamma mia che ridere ragazzi è stato bellissimo Luca Comics vero Revy? Ci siamo divertiti tantissimo Revy ma che cosa ha in mano? Hai visto Molly? Questo è il fantastico magazine della serie di Drago Nero C'è sia in edicola che sullo store di Bonelli E la vuoi sapere una cosa bellissima? Cosa 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 dimmi tutto Guarda un po' qua in copertina ci siamo noi Consigliata da Reppy e Molly Non ci credo siamo proprio noi Sì siamo in copertina sul magazine ragazzi Incredibile ma è bellissimo poi Ci sono anche dei poster dentro? No va bene Non si può sapere Lo devo vedere Aspettate Ok si fa così mi ricordo Io avevo un sacco di poster da piccola Oh Bellissimo Guarda c'è scritto Drago Nero i paladini Bellissimo Questo me lo voglio appendere qua Ma è mio quello Com'è tuo? È mio Ma guarda che qua ce ne deve essere anche un altro Vediamo Reby ma lo sai che io sono riuscito a prendere il primo numero del magazine Di Drago Nero Non ci credo ma cosa c'è qui dentro Il primo numero è venduto con un draghettino molto carino Non ci credo vado a vedere No è mio mi dispiace guarda che bello Dai ma lo voglio aprire è bellissimo C'è quindi il primo numero del magazine a questo legalino dentro Allora se arrivano a 10.000 mi piace apriamo il draghettino Vai ci sto Comunque Molly in edicola è venduta la serie Drago Nero mondo scuro e anche Drago Nero le mitiche avventure Ma sono fantastici guardate ci sono i fumetti e più ci sono anche tanti giochi da fare Adesso Molly cosa ne dici ne facciamo alcuni insieme Guarda si possono anche colorare Eh direi proprio di sì eh Ragazzi scriveteci qua sotto nei commenti qual è il vostro personaggio preferito di Drago Nero Il mio è Gmore ovviamente perché è il più forte di tutti In più stavo pensando che se potessi vivere nel fantastico mondo dell'Eron Dar potrei essere un lupo Come un lupo? Io vorrei essere un elfo Sarebbe bello essere un elfo Te cosa dici? Sì dai Quindi speriamo che il video vi sia piaciuto Sì ragazzi e mi raccomando non dimenticatemi di passare in edicola per il nostro fantastico magazine E soprattutto di non perdervi la serie su Rai Gulp e su Rai Play Da noi è tutto Ciao Ciao